Buonasera, mi scusi un attimo, sto telefonando da una zona di Genova, sta bruciando mezzo a Genova, non so se ce ne rendiamo conto, potete intervenire con le vostre pattuglie o con qualcosa, stanno distruggendo una città, io non lo so, io non dico niente, guardi sono veramente schifata, siamo rimasti blindati perché siamo blindati, una città nostra dove siamo nati e cresciuti e la polizia non interviene. Fate qualcosa, vi prego, nella zona di Marossi sta bruciando tutto, pronto?